Siamo sempre sull'animazione dei tracciati e vediamo adesso come funziona l'editor grafico. Una volta che abbiamo creato il nostro motion path con i fotogrammi chiave, possiamo selezionarli tutti e andare a selezionare editor grafico. In questo caso vediamo che abbiamo un movimento assolutamente lineare, come infatti ci confermano anche le linee rette che vediamo nel tracciato. Se io seleziono i punti, questi diventano modificabili con le maniglie, quindi possono diventare di fatto delle curve di bezier. Con un semplice movimento di questo tipo io già ho modificato la velocità con cui si andrà a muovere il mio oggetto sul tracciato. Una cosa che posso fare una volta che ho selezionato i miei punti, o anche solo alcuni, è di selezionare regolazione automatica. Questo farà sì che ci sia una velocità di ingresso e una velocità di uscita più bassa, mentre una velocità di crociera più alta. Abbiamo conferma visiva di quello che succede anche dai fotogrammi chiave posizionati lungo il nostro vettore. È sempre possibile tornare a impostazione lineare con questo bottone. Ora, perché è interessante usare queste opzioni? Per esempio, io potrei volere che il mio oggetto parta lentamente, per poi arrivare a una certa velocità. E parimenti potrei volere che rallenti prima di arrivare al termine della corsa. La velocità con cui rallenta posso gestirla con queste maniglie, che sono le maniglie dell'influenza, ovvero l'influenza che la regolazione della velocità avrà sulla nostra animazione. Notare che io sono nel grafico della velocità in questo momento. Esistono anche altri tipi di grafici, ma per quanto riguarda la posizione si usa prevalentemente questo. Vediamo com'è cambiata l'animazione. Vediamo che parte lentamente, raggiunge una certa velocità e poi di nuovo rallenta. Per accentuare questa cosa io posso aumentare la velocità e gestisco la curva di accelerazione con la maniglia dell'influenza e allo stesso modo porto la velocità allo stesso punto e gestisco la decelerazione con la maniglia dell'influenza. Qualunque modifica io abbia fatto, posso sempre tornare in modalità lineare o posso sempre tornare in modalità regolazione automatica. La regolazione automatica si ottiene anche premendo il tasto F9 da tastiera. Notare che nel momento in cui io torno a lineare, regolazione automatica regola sia l'in sia l'out, ma io posso anche regolare l'in e l'out separatamente. In questo caso ho regolato solamente l'out. In quest'altro caso ho regolato anche l'in e quindi ho eseguito di fatto la regolazione automatica applicandoli entrambi. È esattamente la stessa curva che avrei ottenuto premendo direttamente regolazione automatica. È anche possibile all'interno di questo grafico modificare la durata, ovvero io posso selezionare un singolo fotogramma chiave e spostarlo nel tempo. Vedete che i fotogrammi chiavi vengono ridistribuiti lungo il motion path, ovviamente. Grazie a tutti.